ciao a tutti e bentornati il video che vi porto oggi parla di UFO che appaiono durante un'uscita di pesca nell'oceano bene ora andiamo a vedere il video in questione ciao a tutti cosa ne pensate secondo voi è vero o solo un altro fake mi raccomando scrivetelo nei commenti se il video ti è piaciuto condividilo con gli amici e se ti fa piacere iscriviti al canale accendi la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutti i video che escono sul canale io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao